Musica Credo che siamo partiti abbastanza concentrati, abbastanza carichi, il problema è che erano più forti fisicamente sicuramente, noi ci eravamo allenati in settimana e anche le settimane precedenti, proprio per questa partita perché ci credevamo, ma concentrazione, come ha detto, cattiveria agonistica sono mancate secondo me e non credo siano così più forti di noi, possiamo giocarcela se fossimo tutti concentrati e tutti in grado di giocare questa partita, alcuni ragazzi giovani, magari un po' più inesperti, però in generale la squadra è una buona squadra e sono contento di farne parte.